Eccomi qua signori, eccomi qua, sono vivo So che qualcuno di voi ieri si è preoccupato tra la live reaction in post partita Mi ha visto veramente in un'agonia incredibile, un'ansia assurda Ma alla fine poi mi sono tranquillizzato e mi sono goduto i tre punti come giusto che sia E oggi sono qui sereno, bello, contento a fare le pagelle E lasciate un like per i tre punti di ieri che sono stati fondamentali Perché perdere punti in questo momento del campionato sarebbe davvero una questione mentale da non riuscire a superare Venivamo dalla sconfitta nel derby e quindi dovevamo riprendere subito il cammino in campionato Adesso abbiamo 12 punti, vediamo cosa farà l'Inter che sicuramente starà giocando mentre voi starete guardando questo video Però siamo lì, siamo ancora vivi Mi raccomando quindi con il like, iscrizione al canale se ancora non l'avete fatto E sotto nei commenti scrivetemi il vostro migliore e peggiore in campo Se volete fatemi tutta la lista, me la guardo molto volentieri Mi raccomando ragazzi, sostenete la serie delle pagelle Allora, partiamo subito dal nostro portierone, ma non è Magic Mike Magnan Abbiamo preso un buon secondo portiere e lo sta dimostrando sul campo Sportiello, voto 7 Perché? Perché in questi tre punti ci sono anche le sue mani, c'è la sua parata I suoi riflessi nel primo tempo fa un miracolo incredibile con un colpo di testa Andato a botta sicuro del giocatore del Verona e lui riesce a impedire il gol Pareggiare in quel momento sarebbe stato veramente critico e quindi diciamo che Sportiello Protagonista di questa partita Poi con i piedi per tutta la partita si comporta bene Ci fa venire anche qualche infarto perché a volte temporeggia troppo con quel pallone Si permette anche un dribbling Probabilmente è stato preso anche per le sue qualità con i piedi Visto che Magnan credo sia il migliore al mondo con i piedi E quando sono andati a scegliere un sostituto Per non cambiare tanto il modo di giocare del Milan Che si appoggia tanto sul portiere Hanno scelto comunque le qualità di Sportiello Anche quelle con i piedi Malik Chao voto 7- Il meno è per l'ammunizione Perché quella ammunizione era da evitare È stata un'ammunizione stupida E queste cose mi fanno arrabbiare Però per il resto della partita è stato perfetto Dominante, sempre in anticipo Ogni volta che un giocatore cercava di proteggere le palla Lui allungava il gambone e gliela toglieva Sembrava anche troppo facile per Malik Chao Non sembravano avversari alla sua altezza Simon Kier voto 6,5 Allora io gli voglio dare un buon voto Anche se ieri durante la live reaction Un po' mi ha fatto arrabbiare Perché ho visto un po' troppi falli inutili Che regalavano punizioni sulla tre quarti al Verona Che era l'unico modo che poteva avere Per rendersi pericoloso Perché facevano salire tutte le torri E ogni volta ci trovavo in difficoltà Due o tre interventi lì al centrocampo Poteva andare molto più tranquillo ed evitare il fallo Invece andava sempre come un kamikaze Però per il resto ha fatto una partita davvero leader La parola leader accanto a Kier ci sta tanto Ha gestito la difesa Non abbiamo rischiato praticamente nulla Quindi bravo anche Simon Kier Ficaio Tomori voto 6,5 Concentrato L'ho visto concentratissimo E non è una roba scontata Perché in queste partite puoi perdere un po' la concentrazione Invece lui è rimasto sempre sul pezzo L'ho visto sempre fargli fare la giocata giusta Proteggere palla quando c'era da magari farla andare sul fondo Lui si metteva col corpo E non stava lì a rischiare Bene, bene La parola d'ordine per Tomori è stata concentrazione Passiamo adesso al centrocampo Radekrunic Onestamente non mi è piaciuto Voto 5,5 L'ho trovato abbastanza inutile Sia in fase di impostazione Che sia in fase di interdizione In fase di impostazione Un fantasma Praticamente avrà toccato due palloni in tutta la partita Non gliela passavano mai E in fase di interdizione Si metteva lì Copriva la posizione Però il Verona ogni volta Centralmente quando riusciva a ripartire Si rendeva pericoloso E non ho visto tanto filtro al centrocampo Diciamo un po' il centrocampo è mancato nella partita di ieri Specialmente nella qualità Tijani Renders Voto 6 Si salva nel secondo tempo Perché anche lui Non mi ha fatto tanto impazzire nel primo tempo A parte il fatto che io sono già pazzo di lui Perché lo adoro In volte che tocca la palla ha un'eleganza incredibile Però nel primo tempo Cerca di fare il compitino Ma niente di che Nel secondo tempo invece Cresce tantissimo Tocca molti più palloni Si fa vedere più al centro dell'azione Riesce a salvare una prestazione un po' opaca Però sicuramente le qualità del ragazzo sono incredibili Musa Voto 6,5 Questo è un vero e proprio guerriero ragazzi Musa meriterà tantissimo spazio quest'anno Magari non avrà fatto la partita della vita Un po' sacrificato lì sulla fascia Ma questo ci mette veramente le palle nel campo Come si suol dire E' uno proprio che ti dà soddisfazione nel vederlo giocare Perché corre in corre tutti gli avversari Non sta mai fermo Si inserisce a destra Si inserisce a sinistra Si inserisce centralmente Recupera pallone Fa praticamente tutto Deve sicuramente migliorare Ma è di gran lunga meglio rispetto a quello che mi potessi mai aspettare Non me l'aspettavo già così pronto Musa Devo essere sincero E' stata una piacevole sorpresa Adesso arriviamo a quello che secondo me è il migliore in campo E sono felicissimo di dare il migliore in campo proprio a lui Spizzi in grillo Florenzi ragazzi E' il giocatore che sta cambiando questo Milan Quando gioca Florenzi il Milan diventa sempre più pericoloso Gioca meglio Il suo piede è veramente vellutato Riesce a mettere dei palloni in mezzo Che se no non vedremmo mai Ieri praticamente vi sfido a dirmi qual era il ruolo di Florenzi in campo Perché era ovunque Un secondo lo vedevi sulla fascia destra Il secondo dopo lo vedevi sulla fascia sinistra Un secondo lo vedevi lì a impostare da regista davanti a difesa Il secondo dopo lo vedevi lì al ridosso dell'area di rigore A premere e magari a cercare di prendere qualche palla sporca Era ovunque Spizzi in grillo Florenzi Una partita eccezionale Passiamo adesso all'attacco E' quello che mi è piaciuto di meno di tutta la partita Secondo me è nettamente il peggiore in campo E mi fa anche un po' strano Christian Pulisic Voto 5 Una giocata buona Quella in cui si è liberato a calciato di sinistro E il portiere gliel'ha parata Poi per il resto Una mezza giocata buona nel primo tempo In cui riesce lì ad allungare il pallone A saltare il difensore Ma poi perde il tempo e si fa rimontare E poi per il resto nel primo tempo L'ho visto poco Nel secondo tempo l'ho visto Ed era meglio non vederlo Perché ha perso l'infinità di palloni Rallentando il gioco Non passando ma il pallone La poteva scaricare 4-5 volte Invece si ostinava a tenere il pallone In champ Non lo so ragazzi Veramente Io questa partita di Pulisic La prendo La metto nel bidone dell'immondizia E la cancello Perché era veramente troppo brutto da vedere Malissimo Pioglia Non accorgersi di una giornata No di Pulisic Perché ci può stare Ora non sto contestando il calciatore Sia chiaro Io parlo sempre Nelle pagine della prestazione in quella partita Pulisic è un grandissimo giocatore E' uno che ci darà tante soddisfazioni Ma ieri era follia pura Non toglierlo dal campo Perché era veramente inguardabile Raffaleao Voto 7 Sicuramente Raffaleao E' stato uno dei protagonisti di questa partita Visto che ha fatto il gol del 1-0 E poi è stato il gol decisivo Ha sfruttato un'indecisione della difesa del Verona E è andato dritto per dritto E davanti alla porta è stato bravo Freddo Lucido A segnare L'ho detto Andar via per Leao non era difficile Segnare davanti al portiere E' un'impresa titanica per Leao Avere quella freddezza di allargare il piattone sinistro E mettergliela lì Non era semplice E' stato bravo Poi per il resto della partita L'ho visto che cercava di rendersi utile Per rendere palla La fascia di capitano Probabilmente l'ha un po' responsabilizzato Grande difficoltà Nel secondo tempo Che veniva raddoppiato Triplicato C'era Magnani che lo marcava Anche se andava in bagno E' stata una partita difficile Perché avevano capito Che da quella parte Era il pericolo numero 1 E quindi il Verona Ha concentrato tutte le sue forze Nel marcarlo Però va bene così Può sicuramente fare di più Ma il gol decisivo l'ha fatto Quindi che gli vogliamo chiedere Olivier Giroud Voto 5,5 Onestamente mi dispiace dare l'insufficienza a Giroud Dopo una vittoria Però 5,5 Secondo me Sto andando anche largo Perché non è che sia andato troppo lontano Dalla prestazione che ha fatto Pulisic Cioè una prestazione imbarazzante Si guadagna quel mezzo voto in più Perché nel gol è stato decisivo È stato bravo lì nell'azione del gol Però poi per il resto Sempre anticipato Non è mai riuscito a tenere un pallone Non è mai riuscito a controllare un pallone Non si è mai reso pericoloso Una partita da dimenticare di Giroud Sicuramente una partita difficile Perché quando il Milan gioca così Non è facile Però Giroud è uno Che comunque quando giochi a lanci lunghi Su tre palle Almeno due te le tiene Qui su tre palle Ne ha tenute zero Quindi praticamente Non è mai riuscito a far salire la squadra Passiamo velocemente Ai subentrati Bartesaghi Mi piace come entra Mi fa un po' paura Devo essere sincero Ero un po' ansioso Però ordinato il ragazzo Crescerà Ha delle buone qualità fisiche Non ho ancora capito benissimo Il suo ruolo Dove potrebbe giocare Come Movense Mi ricordo un po' Bastoni Quindi una difesa a tre Secondo me potrebbe essere l'ideale Sulla fascia lì A fare il terzino sinistro Perché dovrebbe essere lui Poi il vice Teo Hernandez Infatti a sinistra Quando è uscito Florenzi È entrato lui Dovrebbe essere quello Il suo ruolo Fisicamente non mi sa tanto di terzino Però è ancora presto Voglio vederlo molto più Più spesso in campo Per poterlo giudicare Però comunque Un ingresso in campo positivo Love to cheek Voto sei più Mi piace tantissimo come entra Dà una fisicità assurda Al centrocampo del Milan Che in quel momento Stava soffrendo tantissimo il Verona Entra a far capire le sue qualità Meglio di così Cosa gli vuoi chiedere Giocatore Che secondo me Sta diventando sempre più fondamentale Negli equilibri del Milan Ocafor Voto sei e mezzo Imprendibile Sbaglia qualche scelta Perché Quando sei fresco E arrivi lì Sul fondo Che li hai driblati Devi fare qualcosina in più Però sicuramente L'impatto è stato devastante Il Verona da lì È iniziato ad avere paura Dei contropiedi del Milan Perché Non riuscivamo più a ripartire Con Leao e Pulisic Non si è fatta Mezza ripartenza Nel secondo tempo Quando è entrato Ocafor Il Verona è entrato un po' Nel panico Ha fatto un'azione bellissima In cui si è inquinato In mezzo a tre giocatori Ha sterzato alla grande Sembrava una giocata L'Ambappé A differenza che L'Ambappé La palla li rimane In mezzo ai piedi E invece A Ocafor Si è allungato un po' E ha perso la possibilità Però Giocatore Devastante Che deve giocare Deve giocare Ok Non me lo guardare Soltanto come vice Leao Perché se no Non giocherà mai Se Pioli C'ha sta convinzione Che Ocafor Può giocare solo a sinistra Come vice Leao Leao giocherà quasi sempre Quindi Ocafor Non lo vedremo mai Ocafor Può giocare anche in altri ruoli Può giocare da prima punta Può giocare dietro la punta Può giocare a destra Può giocare a sinistra Può giocare ovunque Nell'attacco È un jolly Quindi Basta che lo fai giocare Per favore Non bruciarci Ocafor Luka Jovic Gli voglio dare un bel 6 Una bella sufficienza Nella prima partita Entra bene Si mangia un gol Lì poteva fare sicuramente meglio Però tiene palla È un giocatore vivo Questa è la L'incognita più grande Su Jovic Perché comunque Il calciatore è valido Altrimenti non avrebbe fatto Sto tipo di carriera Non sarebbe mai andato A Real Madrid Se fosse stato un brocco Scarsissimo Il giocatore Si è completamente perso Mentalmente Gli ultimi anni Sono stati veramente Bui Però L'ho visto vivo Ho visto un calciatore Ho visto qualcosa Si può lavorare Su quest'uomo Quindi Mi raccomando Pioli Anche su di lui Sfruttalo Fallo giocare E diamogli le sue possibilità Perché ho visto gente Bocciare Jovic Non è all'altezza Senza manco Aver giocato un minuto Secondo me È un giocatore Che può darci delle gioie Stefano Pioli Voto 6 Il 6 Se lo prende Per la vittoria Perché la partita Non è stata bella È stata preparata Un po' raffazzonata Però L'indisponibile Da quello che ha detto Non sono state scelte tecniche Poi lì c'è da vedere Se è vero Non è vero Però Teo Hernandez E Calabro Non sono stati convocati Per una presunta botta E quindi ha dovuto Un po' Rimischiare la squadra Non era facile È riuscito a fare Il massimo Non abbiamo giocato bene Non abbiamo dato spettacolo Però Tre punti Ci li siamo portati a casa Alla fine Non abbiamo rischiato tantissimo Se non in quell'occasione Nel primo tempo Sufficienza alla fine Dai Stiracchiata per Pioli Che Questi tre punti Erano davvero fondamentali Ragazzi Per questo video è tutto Spero che il video vi sia piaciuto Mi raccomando con i vostri voti Sempre Forza Milan Bella